Ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere il mio outfit è un outfit che ho pensato un po' perché ho ricevuto questa camicia bellissima in simil pizza da Rowey e non sapevo come abbinare allora ho pensato di metterci un vestitino nero sotto però mi sembrava un po' azzardato come abbinamento quindi ho deciso di abbinarla ad una canottiera nera, molto semplice normalissima canottiera nera e dei pantaloni di raso che non sono molto attillati volutamente perché troppo attillato mi sembrava mettere in mostra troppo le ho abbinati a dei tronchetti sono delle scarpe diciamo di mezza stagione per me ha piovuto oggi qui quindi ho deciso di indossarle questo outfit lo utilizzerò per andare a fare un aperitivo con le mie amiche quindi perfetto per la sera non direi notte perché con il pizzo così un po' sollezzante lo vedo più per la sera ho deciso di abbinare un trucco super naturale con le labbra molto shimmer in risalto senza utilizzare colori sgargianti ho fatto una coda per mettere in risalto il collo, la scolatura come vedete non ho utilizzato accessori soltanto degli orecchini di perle proprio per non appesantire già una camicia che è molto presente molto vistosa perché è delicata essendo in pizzo eccetera però è molto vistosa la borsa che ho abbinato a questo outfit è questa Simil Birkin in pelle nera con i dettagli oro io eviterei con questo outfit di utilizzare delle calze semi trasparenti oppure nere perché già vedo la trasparenza del pizzo che insomma si nota sarebbe troppo, si giocarebbe troppo sulle trasparenze utilizzando le trasparenze sia nella camicia che nelle calze si renderebbe l'outfit un po' troppo volgare mi chiedete in tantissime dove ho comprato questi due anelli questo mi è stato regalato a mia sorella in argento 925 entrambi lo sono non ha un marchio, non so dove l'abbia preso mi è stato regalato e l'adoro questo invece me l'ha regalato mio marito per Natale ed è di Tiffany, è il simbolo dell'infinito come avrete visto nel titolo con questo video outfit vi riservo una piccola sorpresa è un giveaway di Rowey volevo farvi vedere un outfit con questa camicia che mi piace tantissimo, che sto sfruttando tanto in questo periodo e loro mi hanno offerto di fare un giveaway ho unito le due cose, quindi è venuto fuori questo video nel giveaway ci impaglio questa maglia che potrete vincere partecipando qui sotto con un commento dovete anche lasciare un commento sotto al link di questa maglia di questo prodotto nel sito Rowey io vi metto il link qua sotto l'altro requisito deve essere iscritto al mio canale ecco niente, partecipare potete lasciare massimo un commento parteciperanno solo coloro che lasceranno anche il commento sotto il prodotto di Rowey che andrò a controllare quindi potete tutti commentare questo video parlare del mio outfit, di quello che volete ma chi non va sul sito Rowey e lascia il commento sotto non partecipare al giveaway vi ricordo che per lasciare il commento sotto il prodotto nel sito Rowey non è necessario fare un account o iscriversi a Rowey potete anche fare l'accesso con il vostro profilo di Facebook va bene ragazzi, spero che l'outfit vi sia piaciuto spero di avervi dato un'idea vi metto il link anche di questa camicia sul sito Rowey qua sotto vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima ciao